Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6. Iniziamo con la cronaca. Un uomo di 51 anni di Pescara è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e posto ai domiciliari per violenza sessuale aggravata. I danni di una bambina di 10 anni che gli era stata affidata da alcuni parenti. Paolo Renzetti. Avrebbe abusato in un parco della zona nord di Pescara di una bambina di 10 anni che gli era stata affidata da alcuni parenti prima di essere messo in fuga da una donna che aveva assistito all'accaduto. All'inizio hanno assistito ad una scena talmente incredibile che non credevano ai loro occhi. Quando hanno poi realizzato che effettivamente quello che stavano vedendo era quello che stava accadendo, in particolare una signora, una madre, ha avuto il coraggio di affrontare questa persona che stava mettendo pubblicamente le mani addosso ad una bambina di solo 10 anni e intervenuta gridando e minacciandolo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Solo così la condotta è stata interrotta. Ai domiciliari è così finito un 51enne incensurato pescarese che deve rispondere del reato di violenza sessuale aggravata. Per la vittima è risultato importante, oltre che il supporto dei consulenti, anche quello di due donne poliziotto che hanno ascoltato il suo racconto. Devo dire che all'inizio non è stato facile perché la bambina, proprio per la tipologia di reato, non riusciva a capire di essere una vittima, ma pensava di essere colpevole. Infatti quando la situazione è stata interrotta al parco, la bambina è corsa via piangendo, gridando non ho fatto niente, non ho fatto niente. Poi dopo che abbiamo avuto il primo incontro, ho avuto consapevolezza di quello di cui appunto era stata vittima. Nel secondo incontro, subito dopo il primo incontro, ho manifestato la volontà poi di ritornare perché doveva confidarci questo segreto, lo poteva confessare solo a noi e quindi nel secondo incontro finalmente è riuscita ad aprirsi. Volevo sottolineare che la bambina poi al termine dell'audizione ha sottolineato più volte il fatto che si era finalmente liberata da un grosso peso sulle spalle. E' stato anche emozionante, voglio dire, per noi essere riuscite ad ottenere questo risultato. Sono stato bombardato di telefonate quando sono usciti sui giornali articoli che parlavano di mie gravi responsabilità. Sono le parole pronunciate questa mattina nel Tribunale Civile di Pescara dal Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che avrebbe voluto rendere una dichiarazione spontanea nell'ambito della causa civile intentata dallo stesso D'Alfonso per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Il giudice Marco Bortone però ha spiegato che non sarebbe stato possibile verbalizzare la dichiarazione. La dichiarazione di D'Alfonso dunque non è stata verbalizzata. Sono stati ascoltati invece i testimoni citati dal legale del Governatore, l'ex Senatore Tommaso Colletti e l'ex Presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, i quali hanno confermato di essere a conoscenza degli incarichi istituzionali svolti da D'Alfonso e hanno rilasciato dichiarazioni sul prestigio del Presidente della Regione. Al centro della richiesta di risarcimento c'è un'interpellanza presentata da Pettinari in Consiglio regionale in merito all'acquisto da parte dell'ASA di Pescara di una palazzina per uffici amministrativi e di staff che secondo il Movimento 5 Stelle sarebbe stata pagata il triplo rispetto al suo effettivo valore. Nella prossima udienza, fissata al 24 febbraio, saranno ascoltati in qualità di testimoni il parlamentare Gianni Melilla e l'assessore regionale Silvio Paolucci, oggi assenti per impegni istituzionali. Confindustria ha presentato il report semestrale dell'andamento economico delle aziende abruzzesi nel 2016. c'è una sostanziale stabilità dei dati, restano trainanti, settore farmaceutico, automotive e agroalimentale. Francesca Romana Testi. Rapporto semestrale per Confindustria che dopo aver analizzato i dati di 200 aziende abruzzese dei diversi settori, stila l'andamento medio da gennaio a giugno 2016. L'export è un dato assolutamente interessante, abbiamo un incremento rispetto al semestre precedente di oltre il 5%, quindi è un dato che dimostra la vitalità del sistema imprenditoriale abruzzese, ma anche sul mercato interno abbiamo qualche dato positivo. La cosa che ci soddisfa in qualche maniera è questo dei sistemi industriali avanzati, penso all'agroalimentare che continua a conquistare mercati, che continua ad esportare, ma anche a conquistare mercati interni, penso al farmaceutico, ovviamente al noto comparto dell'automotive che continua la sua marcia. Il mercato globale mostra un rallentamento della crescita, i dati regionali mostrano difficoltà ad ottenere investimenti sul territorio e resta ancora complicato l'accesso al credito per la microimpresa e la piccola impresa. Il problema centrale che noi abbiamo di fronte in questo momento è a chi destinare le risorse che sono sempre scarse rispetto agli obiettivi e se destinarle per accelerare il processo innovativo oppure viceversa per destinarle a un processo infrastrutturale. Io credo che il nodo centrale della nostra regione sia quello innovativo, perché la presenza di tantissime piccole imprese che stanno solo e soltanto sul mercato interno impedisce che ci sia un fenomeno innovativo di portata sistemica in generale. E dopo la vittoria del no con ampie percentuali anche in Abruzzo, l'esponente di rifondazione comunista Marizio Acerbo chiede le dimissioni del governatore della regione Luciano D'Alfonso. Ascoltiamo. Acerbo, il dopo referendum vede tante polemiche, tante dichiarazioni, il dato dice che la prevalenza dei no è stata netta. Secondo lei ci potrà essere un risvolto in chiave abruzzese di questo referendum? Come ho commentato la notte delle elezioni, secondo me ci dovrebbe essere il Presidente D'Alfonso che ha abusato del suo ruolo istituzionale bombardando gli abruzzesi con la campagna per il sì, cosa piuttosto scorretta come il comportamento d'altronde di tanti altri amministratori e anche sindaci del PD, dovrebbe tirare le conseguenze e dimettersi. So ovviamente che non lo farà, nonostante voglio ricordare D'Alfonso ha scritto a tutti gli abruzzesi ha tempestati di sms, telefonate, ha organizzato adunate da tutte le parti, in Abruzzo il sì ha preso meno della media nazionale, quindi una sonora bocciatura di questa classe dirigente. D'Alfonso ovviamente non si rimetterà, ma faccio notare che almeno dovrebbe, con coerenza parola che non gli è nota, applicare quello che ha raccontato, perché D'Alfonso si è presentato alle elezioni dicendo che come primo atto avrebbe ridotto lo stipendio dei consiglieri regionali e degli assessori regionali e il suo a quello del sindaco della città capoluogo, l'Aquila. Non lo hanno fatto per due anni e mezzo e hanno anche chiesto il voto per il sì al referendum per realizzare un obiettivo per cui non c'è bisogno di modificare la Costituzione ma basta che voti il Consiglio regionale. Adesso D'Alfonso lo faccia per rispetto non solo di chi ha votato o no, ma soprattutto di quei malcapitati che continuano a dargli retta e hanno votato sì, con un minimo di coerenza visto che lui è uno che combatte la casta, si tagli finalmente lo stipendio e ponga fine allo scandalo dei doppi e tripli vitalizi. E torna a comuni ricicloni d'Abruzzo, la graduatoria dei comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Quest'anno a spiccare su tutti è il comune di Balzorano con il 94%. Vediamo. In Abruzzo sono 81 i comuni che superano il 65% di raccolta differenziata. La media regionale cresce al 49,30%. È il comune Aquilano di Balzorano il primo classificato con il 94,09%. Dati confortanti per Rega Ambiente che traccia un quadro della nostra regione. Sicuramente il risultato di oggi che ci consegnano 81 comuni ricicloni nella regione Abruzzo è un dato positivo, anche perché si alza lo stesso livello della media di raccolta differenziata della regione Abruzzo che è quantificato al 31-12-2015 pari al 49,3%. Quindi ci avviciniamo alla soglia del 50%. Non solo, nella premiazione di oggi terremo dentro anche la classifica nazionale che ci portano 12 comuni rifiuti free, quindi liberi dei rifiuti, che oltre ad essere comuni ricicloni, quindi oltre ad avere un indice di raccolta differenziata superiore al 65%, hanno anche un secco residuo inferiore ai 75 kg abitante annuo. In termini economici questa percentuale di riciclo porterà dei vantaggi per i cittadini? Sì, soprattutto per i cittadini e per gli utenti di questo servizio che attraverso una puntualizzazione della tariffa, come alcuni comuni stanno già facendo, già sta incidendo in maniera benefica e in alcune realtà lo stiamo riscontrando con un sensibile abbassamento dei costi. Nella mattinata è stato sottoscritto poi un protocollo d'intesa tra regione Abruzzo e Conai, il consorzio per il recupero degli imballaggi. Obiettivo il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi che attualmente si presenta a macchia di leopardo per l'Abruzzo. L'idea è proprio quella di fare una ricognizione, dopodiché attraverso la regione definire una strategia comune per fare in modo che si incrementi ancora di più il livello di raccolta differenziata ma soprattutto di avvio riciclo. Oltre 5.000 aquilani hanno sottoscritto le petizioni lanciate da due associazioni per salvare il Gran Sasso. Giorgio Alessandri. La sveglia alla politica locale sul futuro della montagna aquilana la suonano oltre 5.000 aquilani che hanno sottoscritto le petizioni lanciate dalle associazioni Save Gran Sasso e Progetto Montagna con le quali si chiede di intervenire sia nella revisione dei confini esterni del Parco Gran Sasso ricadenti in ZPS e l'altra per rivedere i dettami della direttiva Natura 2000 che insiste dentro all'Aeraparco. In tutto 10.000 firme per chiedere insomma che i vincoli di lacciuoli europei vengono messi da parte per procedere ad una pianificazione dello sviluppo montano ormai attesa da anni e che sicuramente dovrà essere argomento di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Intanto raggiunta dal Consiglio attuale i promotori della petizione chiedono qual è la loro idea di progettualità per lo sviluppo montano ed evitare il definitivo spopolamento del Gran Sasso. Noi chiediamo un Consiglio Comunale proprio sulla questione visto che ci sono 10.600 firme al momento. Qui c'è intanto delle direttive europee che sono state messe senza interpellare la popolazione. Tanto è vero che c'è una famosa nota della Regione Abruzzo che comunica i SIC al Ministero dell'Ambiente confessando che non sono nemmeno stati deliberati dall'Aggiunta e nemmeno pubblicati sul Bura. Quindi è una cosa vergognosa. E qui ci sono 10.600 firme che chiedono invece la discussione e la condivisione di questi vincoli perché non se ne può più. Solo qualche tempo fa però il Vice Presidente dell'Aggiunta regionale Lolli aveva tentato di rassicurare tutti spiegando che sì, gli impianti di risalita si sarebbero realizzati e che le norme europee non costituiscono un ostacolo al rilancio del compensatorio sciistico in montano del Gran Sasso. Il Vice Presidente è convinto che con il piano del parco si risolve tutto, però purtroppo ancora non si capisce una cosa, il piano del parco è una cosa, le direttive europee sono un'altra, sono vincoli che non hanno nulla a che fare con il parco, il parco è il gestore di questi siti comunitari. Il piano del parco fa sì che solo che vengono interrotte le misure di salvaguardia della 394, che è la legge guardo sui parchi, le direttive sono un'altra cosa che vanno ad incidere in un'altra maniera. E l'apertura degli impianti del Gran Sasso di Campo Imperatore è rinviata al periodo di Natale. Vediamo. Bisognerà attendere con ogni probabilità le festività natalizie per l'apertura della stagione sciistica a Campo Imperatore. È tornata nei giorni scorsi in funzione infatti la funivia a Fonte Cerreto, ma in assenza di neve, è quasi impossibile che gli impianti possano aprire come da tradizione l'8 dicembre. Tutto rimandato dunque sempre che nevicherà a Natale, quando riaprirà anche l'albergo di Campo Imperatore, che sarà gestito direttamente dal centro turistico del Gran Sasso. Abbiamo già qualche prenotazione, continuano di aprire a bar e al ristorante. Siamo in attesa della neve, tutto nelle mani del meteo, ha affermato l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, Fulvio Giuliani. Intanto le prevendite dagli abbonamenti stagionali si sono chiuse con una leggera flessione rispetto alla passata stagione. Abbiamo mantenuto le stesse tariffe del 2015-2016 a dichiarato Giuliani, ma c'è stato un lieve calo registrato anche nelle altre stazioni che fanno parte del circuito dello schipasto unico dei parchi. E questa mattina nell'aula magna dell'Università di Teramo, gli studenti della Scuola Media d'Alessandro hanno incontrato 13 teramani eccellenti che si sono distinti nel proprio lavoro e che hanno raccontato la loro storia. L'iniziativa è dell'associazione Credete allo scopo di orientare i più giovani verso percorsi professionali maggiormente consapevoli. Tania Bonnici-Castelli. Protagonisti per un giorno dell'Ateneo Teramano, gli allievi della Scuola Media d'Alessandro di Teramo. Prima per una visita di orientamento e poi per l'incontro con i 13 testimonial del progetto Credete. Eccellenze della città scelte per essersi distinte nel proprio campo di attività e che oggi vogliono mettersi a disposizione dei cittadini più piccoli. Il messaggio che darà a questi ragazzi? Di credere in se stessi principalmente e di mantenere soprattutto il rispetto per i propri genitori che sono quelli che le aiutano in tutti i giorni per compiere i loro sogni. Come si diventa un'imprenditrice di successo? Il concetto di successo è relativo. Diciamo che soprattutto con grande fantasia, con grande impegno, con la collaborazione di una squadra. Bisogna seguire le proprie passioni. Poi ci sono degli avvenimenti durante la propria vita che possono anche portare a scegliere alcuni campi di studio. Questo è stato il mio caso e ho scelto di studiare le cellule cosiddette impazzite, quelle che possono portare allo sviluppo di alcuni tumori e mi sono dedicata a questo. Quale sarà il messaggio che darà ai ragazzi? Che bisogna credere che la società ha bisogno di loro, ha bisogno di tutti noi e soprattutto dell'importanza dell'alta formazione, quindi dello studio per ottenere i risultati che tutti noi aspettiamo in loro. Lei è un imprenditore che ha ideato, costruito, immaginato giochi, libri per bambini piccoli, ma com'è nata questa idea? La linea nasce da tanti anni fa, è stata un'idea di mio padre che si è occupato da sempre di didattica e quindi ha portato in impresa tutte le sue conoscenze di pedagogia, di didattica applicata e da lì è nata la nostra azienda. Credete è un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'Università di Teramo, l'Istituto Comprensivo d'Alessandro Risorgimento e l'Associazione Credete per promuovere un percorso di orientamento che permetta agli studenti di scegliere più consapevolmente i loro percorsi professionali. A dire il vero, la star della mattinata è stato lui, Gianpaolo Calvarese, arbitro teramano di Serie A, che ha fatto il pieno di autografi e selfie. E dal 12 al 14 dicembre a Pineto nella scuola elementare Giovanni XIII entrerà alla prevenzione della scogliosi. Visite gratuite offerte ai bambini tra gli 8 e i 10 anni. Alfredo Primante. La scogliosi è una deformazione della colonna vertebrale che nei casi gravi può essere molto dolorosa e causare anche altri tipi di problemi. La tempestività della diagnosi è quindi fondamentale, l'età giusta per valutare e diagnosticare la scogliosi e tra gli 8 e i 10 anni. Da queste considerazioni parte il progetto Vivi in Equilibrio, la campagna di prevenzione volta a favorire la diagnosi tempestiva della scogliosi promossa dal comune di Pineto e dall'azienda sanitaria Radio Sanit di Roseto. Allora, questo progetto è una sorta di continuum rispetto ad un progetto già avviato da noi come amministrazione in primavera, la Primavera della Salute e della Prevenzione, dove abbiamo coinvolto già la scuola e il mondo dell'associazionismo, perché riteniamo che la politica abbia il dovere di occuparsi di formazione, informazione e prevenzione ed è quello che stiamo facendo perché attraverso queste tre importanti parole passa anche il diritto alla salute. Vivi in Equilibrio si rivolge, come detto, ai bambini tra gli 8 e i 10 anni iscritti alle classi dalla terza alla quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, ai quali Radio Sanit offrirà una visita specialistica gratuita finalizzata alla valutazione posturale globale con focus sulla diagnosi precoce della patologia della schiena. La scogliosi può essere molto dolorosa se non presa in tempo. La fascia di età corretta per essere efficace è quella tra gli 8 e i 10 anni. Noi andremo per le scuole a proporre questo progetto. I bambini avranno la possibilità di fare una visita gratuita con una dottoressa fisiatra. Noi cerchiamo di prevenire, quindi non facciamo mai riportare ai bambini dei zani molto pesanti. Tutto il materiale che possono lasciare a scuola lo facciamo. Molte volte però anche quando sono seduti nei banchi la postura non è corretta. Ora sono in una classe prima e già si nota che non stanno seduti corretti. Arte e devozione nelle chiese laureetane è il titolo della mostra che mira ad esporre i risultati dei nuovi studi sulle opere d'arte esposte. Il progetto infatti è indirizzato a studiare, valorizzare e tutelare una selezione di opere d'arte sacra databilita il XIII e il XIX secolo. Vestina News. Pierluigi Evangelista, curatore di questa prima mostra d'arte sacra a Loretta Prutino, di che cosa si tratta? Abbiamo curato questo progetto per studiare, valorizzare e tutelare una sezione importantissima e soprattutto sconosciuta di opere d'arte sacra esistenti qui a Loretto, databili tra il 1200 e la metà del 1800. La nostra iniziativa che abbiamo curato con la fondazione dei musei civici di Loretta Prutino, con il comune di Loretta Prutino e con il supporto della fondazione Pescara Abruzzo era anche quello di rendere note la presenza di Sant'Ommaso d'Aquino qui a Loretto, appena decenne e ha compiuto il suo primo miracolo. Quando è possibile visitarla? Fino a quando? Tutti i giorni della settimana su prenotazione, il sabato e la domenica, la mattina e il pomeriggio, ci si può rivolgere alla fondazione dei musei civici, al Museo Acerbo. Questa mostra è la prima occasione per far conoscere ad un pubblico più vasto, non solo di Loretto ma spero anche della provincia e dell'Abruzzo, questo straordinario patrimonio di opere d'arte che vanno dal Medioevo fino all'età moderna, fino alla fine del 700 e primi dell'800 che fino ad ora erano praticamente sconosciute. Quando è importante la riscoperta di queste opere? Sicuramente è qualcosa di fondamentale perché innanzitutto riesce anche un po' a rinsaldare il legame tra la cittadinanza e il proprio patrimonio culturale. Il patrimonio culturale che devo dire è davvero molto importante, abbiamo opere che anche a volte i loro tesi stessi non conoscono, oggi soprattutto guardando questo crocifisso in realtà è noto proprio a ben poche persone, quindi la riscoperta è fondamentale anche perché precede la tutela stessa delle opere e dalla tutela ovviamente si passa poi anche alla valorizzazione. Ed è stato presentato questa mattina nella sede del BIM di Teramo il cartellone degli eventi che animeranno Torricella Sicura nel periodo natalizio. Il calendario prevede un'offerta ampia di iniziative a partire dal presepe etnografico e l'infiorata fino all'Epifania, un modo per riunire una comunità fortemente colpita dal terremoto che ha subito uno spopolamento del 15%. Al via il cartellone di Natale a Torricella Sicura di Teramo, l'8 dicembre inaugurazione del presepe etnografico e del grande tappeto floreale e poi ancora mercatini e concerti fino all'Epifania, un modo questo per far sentire più unita una comunità particolarmente colpita dall'ultimo terremoto. A Torricella infatti sono oltre 300 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni su 2.800 residenti, uno spopolamento che si attesta al 15% e così le manifestazioni natalizie diventano l'occasione per ritrovarsi e andare avanti insieme. Torricella dopo il sisma del 30 ottobre prova a riunirsi intorno al Natale per ritrovare anche una certa serenità. Voi cosa avete organizzato per i vostri concittadini? Sì, abbiamo stilato degli eventi che grazie alle associazioni del Paese, grazie al nostro impegno, ci porta a ricreare un'atmosfera natalizia nonostante i difficili momenti che abbiamo passato. Cominciamo con l'8, avremo l'inaugurazione del nostro presepe etnografico ormai famoso, poi andremo avanti fino all'11 dove ci sarà il mercatino di Natale realizzato grazie anche alle nostre donne di Torricella e anche grazie all'assessore Silvia Spadaccini che si è impegnata molto. Andiamo al 18 dove avremo il concerto di Natale anche con il coinvolgimento del Braga per poi arrivare alla chiusura del 6 gennaio con un doppio appuntamento, quindi la Befana che scende nella piazza principale del nostro paese, il concerto di musica popolare dei nostri giovani di Torricella. Quante famiglie non vivono più a Torricella dopo il sisma? Abbiamo uno spopolamento che è del 10-15% della nostra popolazione e mano a mano si sta aumentando questa cifra. Cerchiamo di riportarli anche grazie al nostro impegno perché stiamo provvedendo grazie alla protezione civile al posizionamento di casette che possano in un modo o nell'altro far ritornare i cittadini a Torricella perché ne hanno bisogno. Intanto speriamo che tornino per questi eventi. Certo, sicuramente. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Bianca Azzurri al lavoro per preparare la gara di sabato a Crotone senza coda Baebek, Mitrita e Campagnaro in difesa. Scontata la conferma di Ghiomber. Vediamo. Nobert Ghiomber ritornato in campo dopo oltre due mesi dall'infortunio. Innanzitutto una domanda è d'obbligo. Come stai? Sto benissimo. Ho lavorato durante questi due mesi che stavo fuori molto duro ogni giorno e adesso sono molto felice che sono tornato e posso aiutare la squadra. Avete corso pochissimi rischi nella gara con il Cagliari. Questo è un dato importante. Sì, importantissimo. Non abbiamo sbagliato quasi niente questa gara. Peccato che non abbiamo fatto più di un gol, quindi questo fa male un po'. Questa è una fase importante di campionato, gare decisive. Come decisiva sarà quella di sabato prossimo a Crotone? Sarà una partita importantissima per noi, sia per loro, sia per noi. Andiamo a Crotone solo per vincere per tre punti. Ecco, hai proprio anticipato la mia domanda. Tifosi che si aspettano questa vittoria? Sì, vogliamo vincere anche per loro perché come abbiamo visto anche l'ultima partita hanno sostenuto la squadra in una maniera grandissima. Dobbiamo ringraziare solo così che a Crotone portiamo tre punti a Pescara. Crotone è scontro diretto, incontrerete una squadra che ha un po' gli stessi vostri problemi, troverete anche un ambiente caldo? Forse sì, sicuramente sarà un stadio pieno perché sarà un scontro diretto. Spero che arrivino anche i nostri tifosi e danno una mano anche loro. Per chiudere Norbert, ultime queste giornate di campionato prima della sosta, Crotone, Bologna, poi Palermo, sono gare comunque importanti in cui bisognerà fare molti punti. Eh sì, penso che queste partite facciamo in maniera come abbiamo fatto contro i Cagliari, anche qualche punti facciamo. E domani turno infrasettimanale di Lega Pro per il Teramo, che per la diciassettesima giornata ospiterà il Bonolis La Maceratese, fischio d'inizio alle ore 14.30 agli ordini di Airoldi di Molfetta. Solo in estremi se la tecnica Onofri deciderà se impiegare un petrella non al 100% della condizione, sicuro assente Ilari, squalificato al suo posto, steffè. Per il resto conferma della squadra che è spugnato Forlì. Dopo la rifinitura odierna l'allenatore Biancorosso ha presentato così il match. Vediamo. Credo che la squadra in questo periodo abbia fatto delle buone prove, abbiamo abbinato delle prestazioni che magari alternate nel corso della partita con il risultato che è la cosa più importante, tranne che Reggio Emilia dove la prestazione purtroppo non è stata accompagnata dal risultato e quindi dobbiamo essere, non dico contenti, ma positivi per quello che è il nostro futuro, fermo restando che ancora dobbiamo fare tanta strada e dobbiamo comunque sia meritarci con delle prestazioni, soprattutto con i risultati, una classifica ancora più valida. Se riusciamo a trovare una quadratura di squadra con almeno 9 undicesimi sarebbe il top, ma questo non per il termo ma per il sottoscritto, ma per tutti gli allenatori. Quando riesci a dare continuità ai giocatori preposti che sanno interpretare in quel momento in modo comunque sia ineccepibile o comunque sia quasi ineccepibile la prestazione, devi dare continuità e gli altri li devono eventualmente farsi trovare pronti. Ma è sempre una partita che porta tre punti, quindi dobbiamo interpretarla molto bene perché veniamo da un'altra gara difficile dove abbiamo fatto il risultato positivo, ci deve dare la spinta per poter avere grandi energie che in poco tempo dobbiamo comunque sia ritrovare. Dobbiamo dare, ripeto, sempre grande sostegno alla classifica che necessita di tutto ciò e allo stesso tempo incontriamo una squadra alla nostra portata e giochiamo in casa, quindi dobbiamo far valere quelle che sono le nostre qualità e dobbiamo andare forte. Passiamo al basket, nuovo blitz esterno della Globo Info Service Campli che sbanca il parquet del Val di Ceppo per 59 a 73, giovedì importante testa al Palaborgognoni per il quintetto Farnese che ospita Bisceglie Squadra con cui condivide il secondo posto. Andrea Costantini. Una partenza bruciante per ipotecare i due punti che infatti non sfuggono alla Globo Info Service Campli. Sul campo del Val di Ceppo il quintetto Farnese non lascia scampo agli avversari e prosegue spedita alla marcia di alta classifica. Nel primo quarto Campli mette sul piatto la sua netta superiorità con un Bottioni ispiratissimo in cabina di regia e un Gatti, match winner con Ortona, pronto a chiudere un parzialone che segna il massimo vantaggio, più 19 sull'8 a 27 che diventa 10 a 29 al primo intervallo. A questo punto gli uomini di Millina allentano la presa e consentono a Val di Ceppo una progressiva rimonta 28 a 36 a fine secondo quarto e fino al meno 5 durante la terza frazione. La Globo Info Service si ridesta e piazza un altro parziale segnando 28 punti in un poderoso terzo quarto che va agli archivi sul più 18. Sono due triple di Petrucci a togliere definitivamente l'inerzia alla compagine Umbra. Ultimo quarto in Passerella fino al definitivo 73 a 59. Bottioni smazza 5 assist con diti da 17 punti miglior marcatore della serata e un chirurgico 7 su 8 da 2. Bella prova di un energico Duranti che sfiora la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi, idem un Gatti da 9 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Serafini e Petrucci con 10 punti. La Globo Info Service aggancia al secondo posto Biceglie che cade a Sansevero e resta in scia della capolista solitaria Monte Granaro pur con una partita in meno, quella contro Senigallia che sarà recuperata il prossimo 22 dicembre. Brava la squadra del presidente Impaloni a massimizzare il calendario in attesa delle ultime partite del girone d'andata. La sticella si alzerà e questi test diranno in maniera ancora più chiara se la squadra ha tutti i presupposti per restare nella parte nobile della classifica senza limitarsi all'obiettivo salvezza. Si parte dal match interno di giovedì contro Biceglie, domenica trasferta a Sansevero e il 18 il match del Palaborgognoni contro la capolista poderosa Monte Granaro. Campli lancia la sua sfida. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.